Da sportivo e da uomo consiglio di approfittare del mese di novembre dell'iniziativa Movember di respiro internazionale per effettuare gli esami di prevenzione che riguardano le patologie tumorali maschili. A Morbenio grazie a una corsa non competitiva il mese inizia all'insegna dei baffi, quindi mi raccomando vai sul sito www.movemberinmorbenio.com e partecipa a tutti gli eventi organizzati e vai a fare un test del PSA. Aiutaci!